Siamo con il consigliere regionale del PD Fabio Bavarelli, le chiedo dal suo personale punto di vista sulla situazione stadio-ospedale-clinica, anche alla luce delle ultime dichiarazioni dell'assessore Coletto. Io vi ringrazio perché questo dà l'opportunità non solo a me che non parlo a titolo personale ma alla mia parte politica, al PD, di offrire uno spaccato ai cittadini sulle questioni che stanno al centro del dibattito oggi. Noi ovviamente abbiamo fatto una riunione, abbiamo discusso negli organismi del PD di Terni e abbiamo elaborato un documento il cui titolo è ineguivocabile e non può essere strumentalizzato da nessuno. Il titolo è stadio, clinica, ospedale, eccetera. Non perdiamo l'occasione per ridisegnare il profilo della città di Terni perché abbiamo già perso troppe occasioni. Negli ultimi tre anni Terni si è vista scippare il piano periferie, 13 milioni per riqualificare Piazzale Bosca e riqualificare Terni-Est e la zona est di Terni. Abbiamo perso l'occasione attraverso l'agenda urbana di modernizzare la città dal punto di vista tecnologico e stiamo perdendo purtroppo perché ancora non abbiamo l'esito della richiesta di proroga dell'area di crisi che giace al mese, la possibilità di vedere rifinanziata l'area di crisi complessa per favorire nuovi insediamenti industriali e produttivi nella nostra città. Quindi questa occasione non la possiamo davvero perdere e noi dal punto di vista politico siamo favorevoli senza se e senza ma. Questo lo voglio dire in premessa perché se ne dicono troppe in città e allora fa messo un punto su questa questione. Ovviamente a noi non piacciono le chiacchiere, noi siamo sempre stati una forza di governo quindi a noi alle chiacchiere preferiamo gli atti concreti che sono gli atti amministrativi e quindi su questo mi permetto di fare due precisazioni importanti. La prima il nuovo ospedale di Terni. Noi siamo nettamente favorevoli, domani sarà in discussione in consiglio regionale una mia mozione sul tema che io auspico sia contiene il tema dell'ospedale sia che quello della casa della salute sul quale può dire una cosa sono entrambi dei temi sul quale io auspico che ci sia unanimità del consiglio regionale per impegnare la giunta a dare corso a questi due progetti. Intanto prendo atto che nel libro bianco della sanità approvato dalla regione dell'Umbria questi due aspetti non vengono toccati, non vengono menzionati. Peraltro dobbiamo verificare se vogliamo davvero rendere concreto la costruzione del nuovo ospedale, dobbiamo verificare se attraverso il recovery plan come viene sbandierato in questi giorni sarà possibile o meno. Io ho qualche dubbio in proposito perché il recovery plan favorisce progetti che sono già in essere comunque. Venerdì prossimo in commissione sanità della regione ci dovrebbe essere la relazione della Presidente Desei sui progetti del recovery plan dell'Umbria e quindi lì vedremo se l'abbiamo inserito. Se c'è poi sarà nostro compito di tutte le forze politiche spingere visto che siamo insieme al Governo nazionale perché questo passo poi come dire prenda la strada giusta. Per quello che riguarda la casa della salute cioè il trasferimento della sede della ASL e con tutti i servizi, gli annessi e connessi, la possibilità di fare interazioni con l'ospedale di Terni, questo progetto è già un progetto vecchio, non è un progetto nuovo di oggi, è un progetto vecchio delle giunte regionali e comunali di centro-sinistra che fu approvato, che è esecutivo ormai da oltre due anni, che è stato messo in discussione dal direttore generale della ASL Umbria 2 Defino qualche mese fa che poi qualche giorno dopo è stato costretto a rimangiarselo. Però noi dobbiamo prendere atto che questo progetto è fermo, che da oltre un anno e mezzo si poteva bandire la gara d'appalto e non è stata ancora bandita. Quindi diciamo più che raccogliere firme e fare petizioni su queste due questioni, chi governa ha il dovere non di chiedere qualcosa a se stesso ma di porre in essere gli atti concreti per poter realizzare questi due progetti nell'interesse della città. Per quello che riguarda, tra l'altro qui vanno fatte due precisazioni perché io, su cui vogliono essere chiari, due ulteriori precisazioni e lo dico da Ternano, da chi è nato a Terni, è residente a Terni e c'è anche qualche inflessione dialettale ternana qualche volta per cui me ne scuso. Voglio dire che ci sono due elementi che devono essere rapidamente posti in essere, uno dal comune e uno dalla regione per rafforzare la sanità territoriale e la sanità pubblica. Uno, io ho fatto una delibera nel 2019 con cui ho stabilito per far finire tutte le polemiche definitivamente la sede della ASL 2 a Terni. C'era scritto provvisoriamente prima, io ho fatto una delibera per renderla definitiva. Il sindaco Latini dopo due anni deve ancora convocare la conferenza dei sindaci per ratificare questa decisione. Io mi auspico che lo faccia al più presto o altrimenti la regione utilizzi i poteri sostitutivi per dare corso e conferma a questa mia delibera e decisione che feci da presidente della regione facente funzione. L'altra cosa che preoccupa molto è che nel libro bianco della sanità c'è un unico dipartimento di igiene e prevenzione, cioè mentre le indicazioni nazionali sono quelle di rafforzare la medicina sul territorio, qui andiamo all'accorpamento sembra dei due dipartimenti più importanti delle due ASL e non vorrei che questo prefigurasse il disegno di un'unica azienda regionale sanitaria scippando la città di Terni di questo ulteriore presidio che io ho confermato nel maggio del 2019. Per quello che riguarda gli altri due aspetti che oggi sono di dibattito pubblico, lo stadio e la clinica. Io intanto voglio ringraziare il presidente Bandecchi perché ci ha restituito con gli interessi quello che ci aveva tra virgolette tolto nel momento in cui è arrivato a Terni, che ha preso la Ternana in Serie B, poi siamo retrocessi e adesso con un campionato record ci ha riportato laddove meritavamo di stare e io penso che ci siano anche le condizioni per poter salire di un ulteriore gradino, cioè guardare alla Serie A. Certo, noi sappiamo che gli imprenditori che prendono le squadre hanno anche interessi, come è giusto che sia, quando sono legittimi interessi imprenditoriali, noi veniamo da un'esperienza negativa, quella che avevamo con il presidente Agarini perché l'allora assessore Melasecchi gli autorizzò l'inceneritore con una delibera di giunta comunale e purtroppo a Terni è rimasto solo l'inceneritore, mentre di quella squadra, di quella Ternana, diciamo non ricordiamo neanche il valore sportivo e calcistico, sotto certi versi. Quindi ben venga lo stadio nuovo intanto, lo stadio nuovo oggi per noi rappresenta un salto di qualità dal punto di vista calcistico e sportivo che ci può lanciare verso ulteriori traguardi sportivi e calcistici molto importanti. E quindi siamo tutti favorevoli e siamo tutti molto entusiasti di questa proposta. Tra l'altro il presidente Bandecchi sta impegnando anche sul versante del sociale ultimamente e quindi di questo la città gli deve rendere merito. Noi sappiamo che la legge sugli stadi oggi consente di riqualificare, di fare uno stadio nuovo avendo anche delle contropartite tra virgolette legittime per contribuire all'equilibrio finanziario dell'investimento che l'imprenditore sportivo si appresta a fare. Anche qui va fatta una premessa dicendo che noi siamo d'accordissimo se a Terni ci sarà un'altra clinica privata. Dico un'altra perché bisogna riportare le cose nella loro correttezza. Cioè a Terni ci sono stati in altre epoche storiche delle cliniche private, ricordo la clinica di Moraga, la clinica Salus, eccetera, ma è stata anche autorizzata nel 2017 sia dal Comune che dalla Regione una clinica privata per 85 posti che recentemente il Comune di Terni, la cui autorizzazione è stata riconfermata recentemente. Quindi che a Terni ci sia solo il pubblico una verità non assoluta e comunque deriva dal fatto che le cliniche private sono realizzate dagli imprenditori privati. Per cui se nessuno ha interesse a farle è evidente che questa spinta diciamo non c'è stata nonostante avessimo incentivi industriali anche importanti perché l'area di crisi ad esempio era uno di quelli. Non è vero neanche che i cittadini sono come dire oggettivamente stati costretti in questi mesi ad andarsi ad operare per operazioni di media e bassa complessità presso cliniche di Perugia. Questo è stato dovuto a una scelta politica della Giunta regionale. Io a marzo ho presentato un atto amministrativo per utilizzare l'ex milizia che sta a fianco dell'ospedale di Terni come ospedale covid, tra virgolette, perché se quell'immobile fosse stato utilizzato per questa funzione l'ospedale di Terni si sarebbe liberato e quindi l'attività ordinaria almeno in parte avrebbe potuto continuare a svolgersi. Non si è voluto perseguire quella strada, quello è un edificio che rimane lì già destinato, già con destinazione sanitaria, già predisposto per le terapie intensive che se per esempio qualcuno, io è anche una proposta che ho chiesto di valutare al presidente Tagliavento quando l'ho incontrato, se volesse utilizzare anziché costruire una cosa nuova, se volesse utilizzare quella cosa che è pubblica può rappresentare, fermo restando gli approfondimenti di legge e normativi che vanno fatti, se può rappresentare anch'esso un bilanciamento per l'investimento sullo stadio, credo che possa e debba essere presa in considerazione anche perché come sappiamo costruire nell'area dello stadio dove c'è, diciamo, ci sono le esondazioni e quindi c'è da mettere in sicurezza tutta l'area, c'è un iter burocratico complesso e più lungo, tant'è che solo in questi giorni l'unica cosa che noi abbiamo avuto, che c'è stata e che viene sbandierata come un primo sì della regione, in realtà la regione ha dato un primo ok al riconoscimento di interesse pubblico dell'opera relativa allo stadio per quello che riguarda gli aspetti urbanistici, gli aspetti dell'esondazione. Per quello quindi diciamo ribadendo che chi governa non fa pedizioni, non promuove raccolta di film, chi governa agisce attraverso atti amministrativi, fa le cose, generalmente lo strumento della pedizione lo utilizzano i cittadini liberamente, qualche volta lo utilizzano le opposizioni magari per promuovere qualcosa diciamo che la maggioranza non vuole prendere in considerazione. Quindi benvenga, sarà utilissima anche una clinica privata che porti valore aggiunto ovviamente rispetto a una sanità pubblica che deve essere rafforzata, in particolare la medicina territoriale e l'apporto di valore aggiunto lo può fare per esempio in quei settori dove abbiamo delle lunghe liste di attesa, mi riferisco alla bassa e alla media complessità, abbiamo lunghe liste di attesa che potrebbero essere diciamo invece smaltite. Conosco il valore anche di chi ha una università quindi può fare anche ricerca, può sviluppare ricerca quindi molto importante tutta questa progettazione, chiaramente c'è un percorso normativo rispetto alla quale parlando da Aternano io non voglio e è dovere di qualsiasi amministratore perché poi se ne assume le responsabilità, diciamo fare le cose, non prometterle se non è sicuro di poterle mantenere perché magari c'è un percorso giuridico e normativo che non collima con le legittime aspettative. Qui è chiara una cosa che per realizzare oggi una clinica privata ci vuole una programmazione sanitaria che ancora non c'è, sulla quale noi se saremo chiamati al voto sul piano sanitario, su questo punto, su altre cose non credo che andremo d'accordo perché noi siamo per una valorizzazione della medicina territoriale, se ci si presenta un progetto tipo Sanità Lombardia noi non saremo d'accordo ovviamente, però sull'aspetto di questa possibilità, di allargare anche queste possibilità, se sarà contenuto nella programmazione sanitaria che la regione deve fare, ancora noi ovviamente daremo il nostro contributo e il nostro voto favorevole. Il PD voterà favorevole anche in Consiglio Comunale sul progetto che verrà presentato tra qualche giorno, a cui sarà chiamato il Consiglio Comunale all'approvazione. È chiara una cosa che le cliniche prima si costruiscono, poi una volta costruite, solo una volta costruiti si può chiedere la fase successiva all'accreditamento, cioè l'autorità pubblica deve verificare se quello che hai costruito, se il personale che hai assunto, se la tecnologia che utilizzi, se le strumentazioni che hai sono all'altezza di un accreditamento perché poi lì ci si va a curare e quindi tutti dobbiamo essere sicuri che le cose funzionino bene. Una volta ottenuto l'accreditamento le ASL e solo le ASL su base regionale possono rilasciare l'eventuale convenzionamento che come sappiamo è basato in base alla legge del 2012, la 502, c'è un budget limitato. Questo budget limitato per l'Umbia corrisponde da circa 21 milioni, circa 350 posti letto convenzionabili che attualmente sono impegnati. Ma sarà solo grazie eventualmente a una nostra delibera assunta nel 2018 che sarà possibile diciamo che si possa svolgere una procedura competitiva, quindi far entrare sul mercato della sanità anche ulteriori attori. Questo è possibile perché nel 2018 ne abbiamo assunto la decisione di rendere obbligatoria quello che per legge in fondo non lo era perché nella legge c'era un anche di troppo, cioè nella legge nazionale si parla della possibilità di utilizzare anche procedure comparative nel rilascio dei convenzionamenti. La regione Umbria di centro-sinistra decise nel 2018 di rendere obbligatoria la procedura competitiva, tant'è che altri attori sul versante della diagnostica a Terni hanno potuto ottenere in questi anni il convenzionamento proprio in virtù di quella delibera che facciamo nel 2018 che garantisce pari opportunità a tutti gli attori, anche di quelli sul mercato della sanità che vogliono inserirsi in questa dinamica per apportare valore aggiunto alle nostre comunità. Mi chiedo in conclusione qual è la possibilità che tutto il progetto in qualche maniera si riesca a concretizzare? Ma guardi io faccio la minoranza, siamo all'opposizione, io sono il portavoce delle minoranze quindi posso garantire che qualsiasi cosa iniziativa ci sarà l'apporto delle minoranze, qualsiasi iniziativa che vada nella direzione diciamo positiva. Per quello che riguarda l'iter ci sono, per la parte politica ovviamente noi siamo d'accordo, quindi tutto quello che riguarda gli indirizzi politici li voteremo e li valuteremo e li voteremo, per quello che riguarda la parte tecnico-giuridica la conoscono bene i tecnici, i dirigenti, i direttori generali che dovranno dare le loro indicazioni e i loro pareri, su questa parte ovviamente chi dice cose che vanno nella direzione contraria se ne assume la responsabilità. Io ho chiesto una cosa semplicissima, proprio per sgombrare il campo da tutto quello che sento dire. Si chieda alla Regione un parere preventivo sulla possibilità della conclusione positiva del leader progettuale in modo tale da non sprecare risorse per fare progetti o per promettere cose che poi magari non possono avere una realizzazione concreta. Noi ci aspettiamo che ce l'abbiano, però diciamo la legge è legge e la legge è uguale per tutti.